Di fidare dell'ultimo posto di Torino con tanti giocatori abili per mettere in difficoltà Avellino e questo è il concetto espresso in sala stampa da coach Prino Sacripanti che ha presentato la sfida contro i piemontesi. Mai come in questa partita venga una Torino agguerrita, con le spalle al muro è la terza partita in cui gioca la copiata di due giocatori tra i due più forti del campionato italiano Dyson che tutti conosciamo per aver portato Sassa di altri colore e quindi è tornato con grande prepotenza, ha fatto una partita di altissimo livello e poi DJ White che probabilmente, a dire che è il lungo più forte del campionato non lo so però è sicuramente tra i lunghi più forti del campionato. E nelle prossime ore si lavorerà per integrare al quintetto base Joe Ragland arrivato solo ieri? Abbiamo altri due giorni per provare a innescare al meglio, a far sì che possa essere dei nostri anche Joe Ragland quindi un lavoro tecnico, tattico un po' diverso rispetto alla settimana per la preparazione della partita di Torino nell'immediato c'è una piccola difficoltà di inserimento Il ragazzo ieri si è allenato, non è al massimo della forma essendo stato 15 giorni completamente fermo però penso che dei minuti di qualità ce li possa dare